In mezzo di amici e conoscenti, spesso le lacce stesse sono rubate. Architetti, dottori e avvocati si sobbano traire le clienti. E a tante volte le stesse parenti o amici di cui non le aspettate vi fanno questi belli complimenti ad accavato appena vi trovate. Se avete un posto buono sull'amici che cercano lo modo e la maniera di farvelo perdere si dice, vadete dell'amico e io ci credo perché aveva scritto un tra la sua bandera su se ti dico che mi aspetto io.